Ho sentito proprio di riprendere in me il mio potere e di scegliere io di fare questa trasformazione per me stessa, quindi l'ho sentita molto forte e per la prima volta ho sentito un formicolio proprio in tutto il corpo, proprio quando si dice, non saprei come definirlo, però ecco, quando dici senti nel tuo corpo e io l'ho sentito veramente. In questo momento sono veramente riuscita a sentire molto forte questa benedizione proprio di questa riprogrammazione energetica, quindi grazie, grazie a voi, grazie a tutti, grazie a me e grazie alla parte divina.